Insomma, si sono create delle organizzazioni di intelligence semi-internazionali occidentali, in questo caso il problema è più o meno lo stesso. Onorevole Borghezio. Grazie Presidente, credo che ci sia un po' di ipocrisia da parte di noi politici che ci strappiamo un po' le vesti e anche da parte degli organi di informazione quando, a differenza dei nostri relatori che vanno al punto, descrivono lo scandalo di queste rivelazioni in toni allarmati e come se si trattasse di qualcosa di imprevedibile. Ma è semplicemente la filosofia del nuovo ordine mondiale che si esprime, direi naturaliter, nel controllo totale delle informazioni, delle persone, io non voglia persino del pensiero. Quindi questa è la premessa. Tutto ciò premesso, io vorrei domandare ai due intelligenti relatori, se dall'analisi approfondita e seria, non solo dal punto di vista tecnico che hanno svolto sulla materia, se non si sono posti un problema e quali elementi hanno, se lo sono posto, hanno trovato di risposta. Se l'elemento che maggiormente caratterizza i problemi che emergono dallo scandalo che è stato rivelato dai giornali e dal giornalismo d'inchiesta, non sia in realtà la realtà di un potere segreto. Perché quello che colpisce è, reiteratamente, i servizi si scambiano delle informazioni due negli altri, ma non si sa poi bene a chi vadano a finire questi dati e come vengano utilizzati. Sicuramente hanno un grosso impatto sulla realtà economico-finanziaria, ma in quale direzione? In quali casi, con quali finalità ciò è avvenuto? Io dico, nel momento in cui noi sappiamo che alcune decisioni importanti vengono prese da organismi di natura totalmente segreta o parzialmente segreta, dal Bilderberg alla trilaterale, non possiamo porci il problema se la razio di questo controllo mondialistico delle informazioni non sia soggettata all'interesse di poteri segreti che sovraintendono e sovradeterminano le decisioni apparentemente democratiche dei nostri regimi. Grazie.